Veneto, Ponte di Piave, primo posto gara interregionale tutta terminile festa della donna di Cambiango, secondo posto, seconda tappa Toffreo Veneto, Monselice, secondo posto gara interregionale Romano di Lombardia, terzo posto regionale esordiente al Consuolo Martesana, terzo posto campionato regionale SC, anno 2016, primo posto gara interregionale Gerenzano, primo posto torneo Grandi regionale, Venano a Mambro, primo posto gara interregionale Team Nio, Romano di Lombardia, secondo posto gara internazionale Torin Cup, terzo posto regionale esordiente al Consuolo Martesana, terzo posto torneo robico Carate Terro d'Isola, terzo posto Open d'Italia di Licione e poi il motivo della premiazione, primo posto medaglia d'oro campionato italiano esordiente a Lidoia Ostia, quindi se mi ponete... L'amministrazione è orgogliosa della nostra concittadina Paola Menegor, vincitizia del campionato italiano Fischian Gran Premio, giovanissimi, specialità, comité categoria, a Lidoia Quarantena. Grazie.